Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Ilari Blasi come una vera principessa in Svizzera. La camera ha degli interni mozzafiato ed il panorama è spettacolare. Ecco il video. L'attenzione del pubblico è rivolta tutta ad Ilari Blasi non soltanto su Canale 5. Quando si trova alla guida dell'isola dei famosi, ma anche sui social, dalla rottura con Totti la conduttrice romana sembra essere più attiva che mai e, spessissimo, pubblica foto che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Dagli outfit particolari al reality show di Canale 5 fino alle foto da urlo pubblicate su Instagram. Ogni volta la Blasi lascia senza parole. Ha 42 anni. Proprio come quando esordiva come letterina di passaparola, è un concentrato di eleganza, fascino e sensualità, con un corpo scolpito da capogiro. In attesa delle vacanze estive, Ilari sembra che di recente abbia avuto molto da festeggiare, e, a tal riguardo, non sono mancati i viaggi. Nel suo soggiorno in Svizzera è stata ospitata da una camera davvero da sogno. Dagli interni principeschi e con la vista su un panorama veramente spettacolare. Ecco il video pubblicato sui social. Tutti i followers rimangono incantati. Ilari Blasi si gode un soggiorno da sogno in Svizzera. La camera incanta. Dopo aver festeggiato il compleanno a Marrakesh, Ilari Blasi continua a prendersi delle pause di relax in giro per il mondo e, questa volta, ha deciso di soggiornare non troppo lontana dagli studi Mediaset milanesi. Come si vede in un video pubblicato sui social, infatti, la Blasi ha trascorso alcuni momenti a Lugano, nella Svizzera italiana. Di certo, per l'occasione, la conduttrice romana ha scelto una camera davvero principesca. Dotata di ogni comfort ed elegantissima. Come si vede dal video gli interni sono curati nei minimi dettagli. Addominare tinte chiare come il panna e il grigio ghiaccio. Per un arredamento che richiama lo stile del centro Europa dell'Ottocento. Da mozzare il fiato anche la vista offerta dal terrazzo privato. Proprio lì dove si trova Ilari. Seduta al tavolino. Mentre viene girato il video. Il panorama del lago di Como lascia veramente senza fiato. Completando l'offerta di una camera davvero principesca. In questa nuova fase della sua vita la Blasi si sta godendo pienamente tanti viaggi e occasioni di relax. Vivendo un periodo davvero d'oro. Su Canale 5. Al momento, è regina indiscussa. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.